Un 21enne di origini magrebine è stato arrestato dalla polizia di Battipaglia perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, dimorante a Campolongo di Eboli, è stato pizzicato nell'ambito di un'attività di controllo del territorio effettuata nella zona del litorale. La perquisizione domiciliare compiuta dagli uomini del commissariato di pubblica sicurezza ha permesso di rinvenire 12 grammi di cocaina, 21 grammi di marijuana, 50 grammi di hashish e un bilancino digitale. Il tutto occultato in una roulotte. La droga era già suddivisa in singole dosi e pronta per essere ceduta. Dopo l'arresto il 21enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Salerno come disposto dal PM di turno e nei suoi confronti è stata avviata inoltre la procedura per l'espulsione in quanto risultato sprovvisto del permesso di soggiorno.